Luca Relli, la Torrese possiamo dire per chiudere definitivamente il campionato è ancora troppo presto? Un po' troppo presto però sicuramente è un grande passo avanti, vincendo questa partita si farebbe un grande passo avanti è quello che tutti quanti sperano però in realtà la partita sarà molto difficile perché la Torrese è una squadra molto molto forte ha dei giocatori di categoria che hanno fatto anche altre categorie, abituata anche a quello che domenica si spera sia uno scenario importante anche per l'Angelini Prima di parlare del pubblico, dell'appello da fare ai tifosi nero-verdi volevo chiedere come arriva il Chieti a questo appuntamento Luca Relli Ci arriviamo decisamente bene, abbiamo fatto una bella vittoria domenica fuori casa con una squadra una delle più in forma del campionato quindi a livello psicofisico stiamo decisamente bene, bisogna però preparare la partita perché poi quello che conta è di domenica e come prepareremo questa partita, come saremo pronti a fare male all'avversario allo stesso tempo a non prendere gol Appello al pubblico, la società ha voluto fortemente la giornata nero-verde e si spera nella grande cornice di pubblico, cosa dice Luca Relli? Io dico che è sempre bello avere uno stadio pieno, mi piace particolarmente, specialmente se poi c'è uno spettacolo anche tecnico importante quindi sicuramente i giocatori sono contenti, questo non ci deve distrarre da quello che è l'importanza del campo perché poi non serve a nulla se noi non dovessimo fare la partita giusta e quindi noi dobbiamo stare concentrati sul campo Quindi per chiudere un giocatore della Torrese che leveresti al mister avversario? Ma no, la Torrese ha diversi calciatori Uno dai, facciamo il gioco No, sicuramente quelli che ci possono far male sono gli attaccanti, forse l'attaccante Maglio è quello che può creare più insidio alla nostra squadra